Benvenuti a Tu per Tu, il nostro dialogo con i consiglieri provinciali. Abbiamo ospite in studio Paolo Ghezzi che è capogruppo di Futura 2018. In questa prima tornata di A Tu per Tu cerchiamo appunto di scoprire i nuovi volti che compongono il consiglio provinciale di Trento dopo le elezioni del 21 ottobre. Paolo Ghezzi è appunto volto noto del giornalismo trentino perché di giornalismo si è occupato prima appunto di arrivare alla politica. Ecco ci racconti brevissimamente come è stato questo approdo appunto alla politica. Ma è stato del tutto inaspettato prima di tutto. Sono stato chiamato da forze politiche ma anche da normali cittadini che hanno pensato che appunto alla mia età non più verdissima ma verde come ancora entusiasmo e voglia di fare io potessi portare un qualche rinnovamento nella politica trentina. La politica l'ho sempre raccontata dalla parte dei giornali per molti anni, per oltre 35 anni era forse il momento di provare a stare sui banchi dall'altra parte. E com'è questa esperienza? L'esperienza è interessante perché comunque io sono testimone, sono dentro una legislatura storica perché c'è stato un cambio della guardia politicamente molto rilevante che resterà nella storia non c'è dubbio. Quindi molti volti nuovi ma anche un modo nuovo di approcciare all'amministrazione quindi per me è nuovo fare opposizione ma vedo i nuovi al governo e quindi comunque è interessante questa dialettica fra novità che si incrociano. Com'è nata Futura 2018? Futura 2018 nasce da alcune forze che non vorrei nemmeno citare ma che diciamo rappresentano l'anima del trentino ecologista, solidale, partecipativo che si sono messe insieme e hanno pensato addirittura che io potessi essere, potessi rappresentare, guidare la novità anche per la guida della provincia e come qualcuno sa nell'estate scorsa quindi il mio nome è stato speso al famoso tavolo del centro-sinistra che doveva esprimere un candidato. Poi le scelte sono state diverse, a quel punto però le molte energie mobilitate, ricordo i 500 anzi forse in più del Muse a fine agosto che avevano lanciato insomma questa novità, allora sono diventate comunque una massa critica da usare per proporci come lista. Il quasi 7% che abbiamo preso il 21 ottobre, testimonia nel giro di due o tre mesi dalla nascita di Futura a prendere 17 mila voti dei trentini, è una bella responsabilità e quindi ci ha incoraggiato a stare dentro questa partita. I primi provvedimenti che le vuole portare avanti appunto in Consiglio Provinciale a Trento quali sono? Ma più che di provvedimenti perché siamo proprio appena all'inizio diciamo che abbiamo già fatto vedere quali sono le nostre diciamo i nostri focus, sicuramente quindi la tutela dell'ambiente ma anche la tutela del lavoro ma anche le fasce deboli e marginali e sociali dal punto di vista sociale. Questo ha significato per esempio di fronte ai primi provvedimenti diciamo di taglio rispetto a certi settori in particolare quelli che riguardavano gli immigrati fare un'opposizione dura e intransigente per rivendicare che cosa? Non che debbano venire ovviamente prima gli stranieri dopo i trentini ma che siamo tutti come amo dire io esseri umani presenti sul territorio, viventi sul territorio, togliere tutele ad alcuni di questi come ma forse ne parleremo dopo viene fatto con i nuovi requisiti previsti anche dalla variazione di bilancio, non significa avere un trentino più sicuro, significa avere un trentino dove alcune persone si sentono meno sicure e forse stiamo tutti peggio invece che stare meglio. Ecco lei su questi nuovi requisiti qual è appunto la posizione che Futura 2018 ha in modo anche molto forte manifestato in Aula. I nuovi requisiti che sono stati infilati sul rettiziamente l'abbiamo contestato sia il PD sia il PAT sia noi quindi in questo senso molto compatti come minoranze sono stati infilati voglio dire in una norma finanziaria che doveva stanziare soldi e fondi giustamente per il grave danno ambientale di fine ottobre sono requisiti che si allineano alla legge nazionale al reddito delle cittadinanze essenzialmente che prevede i famosi dieci anni di residenza in Italia di cui ricordo però solo gli ultimi due continuativi li anticipa addirittura quindi mentre prima avevamo una giunta che cercava con tutti i suoi limiti di valorizzare il sistema trentino considerato un modello in Italia di anticipare il sistema nazionale di trattare con Roma adesso si aspetta che da Roma vengano le norme e addirittura si anticipano le norme romane per come dire ridurre la platea degli aventi diritto questo è una cosa che noi consideriamo sbagliata inaccettabile anche dal punto di vista autonomistico non soltanto dal punto di vista sociale sul taglio o meglio sui tagli a cinformi lì appunto la vostra posizione allora cinformi come tutti i meccanismi complessi non è esente da critiche da difetti il problema era che si è voluto dare un segnale prima ancora di analizzare quali erano effettivamente questi servizi allora dico tagliare i corsi d'italiano ci sono comunque corsi d'italiano che vengono fatti gratuitamente da molte persone di buona volontà che si mettono a disposizione quindi l'integrazione ci sarà ancora ma perché tagliare i corsi perché tagliare il sostegno psicologico che tra l'altro erano poche decine di migliaia di euro l'anno a che pro secondo noi la giunta provinciale in carica dà dei segnali prima di analizzare le situazioni se le analizzasse prima forse prenderebbe decisioni meno tranchant e più ragionevoli per concludere facciamo un accenno anche alla valdastico se ne parla in modo insistente in queste ultime settimane e adesso si parla di questo tracciato che potrebbe sboccare a la nostra linea è assolutamente chiara no alla valdastico qualsiasi sia l'uscita perché comunque crea dissesto idrogeologico in qualunque punto sbocchi ma soprattutto per una questione prospettica stiamo discutendo il rinnovo della concessione autobrenner una partita anche molto dura col governo allora vogliamo continuare a investire su nuove strade e abbiamo visto quanto l'autobrennero sia già intasata quindi vogliamo portare nuovo traffico sull'autobrennero o vogliamo puntare sulla ferrovia noi diciamo non facciamo nuovi dissesti idrogeologici e puntiamo soprattutto decisamente nel passaggio sul passaggio fra la gomma e la ferrovia è l'unica strada per un futuro è l'unica strada che ci apre veramente all'europa col corridoio del Brennero che punta verso il nord a cui noi siamo anche storicamente legati noi ringraziamo molto Paolo Ghezzi capogruppo nel consiglio provinciale a trento di futura 2018 è tutto per questo appuntamento con a tu per tu arrivederci alla prossima puntata Grazie a tutti